L'addio ad Alessandra Zorzin nel Duomo di Montecchio, mai più violenza contro le donne. Banda di Valviventi in azione, svaliggiano un'abitazione di due ville ma i carabinieri li intercettano e li arrestano. Campo Marzo, i cittadini chiedono di riparare la pubblica illuminazione, il degrado si annida dove c'è buio. Torna Ottobre Rosa, è il mese per la prevenzione e la salute della donna. Amici, ex compagni di squadra e tifosi, tutti uniti per il compleanno di Paolo Rossi. Sanzeno, Arzignano, festeggia attorno al campanile riparato dopo i danni del maltempo di un anno fa. TG Vicenza, un cordiale buonasera a tutti voi tre spettatori e ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Lo avete sentito anche dai titoli oggi. L'ultimo saluto a Montecchio Maggiore ad Alessandra Zorzin, la 21enne uccisa mercoledì scorso nella sua abitazione di Valdimolino. Una folla commossa ha accolto il feretro. È un silenzio intenso, carico di dolore, quello che ha accolto il feretro di Alessandra Zorzin sul sagrato del Duomo di Santa Maria e San Vitale a Montecchio Maggiore. Ad accogliere Alessandra, 21 anni, vittima mercoledì 15 settembre di femminicidio, per il suo ultimo raggio, i genitori, il compagno sorretto dai familiari. Sulla bara chiara un cuscino di rose e rosa e delle calli fiori delicati, come era delicata e dolce Alessandra. A loro fianco i primi cittadini di Montecchio e Sovizzo, la consigliera regionale Emilia Cecchetto, ma soprattutto gli amici e tanta gente che conosceva la giovane mamma. Tanti hanno in mano un fiore portato da casa o consegnato fuori dalla chiesa, un fiore che per i genitori di Alessandra vuole essere un simbolo di amore da donare a chi ci sta più vicino. Le parole sono di conforto, di ressurrezione, come quelle nella lettura del Vangelo, secondo Giovanni, che parla di Lazzaro. Le parole di Don Paolo nell'Omelia sono per i familiari, per chi conosceva Alessandra, oggi sconvolti dalla tragedia. Ciascuno di noi presenti vive un sentimento particolare, la maggioranza certamente prova dolore perché la ferita fa male. L'invito è ad andare avanti, a credere nella parola di Gesù che è la risurrezione. Il fereto di Alessandra esce dal Duomo, accompagnato dalle note di What a Wonderful World di Armstrong e poi ancora quel silenzio assordante che, come un grido di dolore contro i femminicidi, come lo stesso sindaco di Montecchio, Gianfranco Trapola, ricorda stringendosi al dolore dei familiari. La violenza si vince solo se riconosciuta e condannata da tutti, a tutti i livelli. Per questo facciamo appello a tutte le istituzioni che si impegnino maggiormente in questa azione perché il rispetto verso le donne divenga il principale valore della nostra società. L'ultimo saluto del compagno di Ale, dei suoi familiari e dei tanti amici è stato affidato ai messaggi scritti con i pennarelli indelebili su quella bara bianca che ha portato via per sempre la loro Alessandra, ora diventata un bellissimo angelo. Andiamo avanti con il telegiornale, con la cronaca furti in abitazione, i carabinieri individuano e arrestano una banda. Due ville, banda di ladroni pizzicata sul fatto, avevano appena svaliggiato un'abitazione sottraendo argenteria varia, monili e denaro per alcune migliaia di euro. I quattro sono stati arrestati. I carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, notavano quattro individui sospetti a bordo di una Volkswagen Passat con targa rumena in via Marosticana nella frazione di Povolaro. I militari raggiunta l'auto notano che nel frattempo gli occupanti sono rimasti in due e che alla vista dei carabinieri cercano di darsi alla fuga. Fermata la Passat, i militari identificano i due, un 31enne e un 20enne, entrambi incensurati, rumeni e senza fissa dimora. Nell'auto veniva trovato un coltello a serramanico e documenti di quello che poi risulterà essere uno dei complici entrato nell'appartamento. Nel frattempo un'altra pattuglia di militari, appostata a breve distanza, intercettava gli altri due complici, un 21enne e un 28enne, entrambi pregiudicati con una borsa al cui interno vi era appunto l'area furtiva. I due sarebbero entrati forzando con un cacciavito una finestra dell'abitazione e dopo averla messa a su quadro se ne stavano andando con il bottino. Tutti e quattro venivano arrestati e trattenuti in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima che ne ha confermato l'arresto con il conseguente trasferimento in carcere. Vediamo insieme il cartello del nostro Tg Linea Aperta, avete un problema davanti a casa? Ditelo al vostro sindaco, attendiamo tutte le vostre segnalazioni e i contatti che state vedendo nella grafica del Tg Linea Aperta. Degrado a Campomarzo, qualche giorno fa avevamo dato voce ai residenti di Piazzale Bologna, oggi ci arriva un'altra segnalazione, sentiamo. Fiamme alte, un incendio in città. Con queste immagini qualche giorno fa documentavamo come alcuni cassonetti avessero preso fuoco di notte in Piazzale Bologna a Vicenza. Nell'occasione avevamo dato voce ai residenti. Abbiamo diverse problematiche, abbiamo i tossici e gli spacciatori, abbiamo i questuanti, quelli che chiedono l'elemosina e abbiamo i senza tetto che dormono in questa zona. Dopo questa denuncia, oggi ci arriva da Piazzale Bologna un'altra segnalazione. C'è un lampione fulminato davanti all'ingresso dell'area riservata ai cani e in questo cono d'ombra, secondo i residenti, troverebbero rifugio tossici, spacciatori di droga, questuanti e senza tetto. Detto fatto, noi di Rete Veneta, come nostra abitudine, portiamo la voce dei cittadini all'assessore competente. Il lampione va sistemato. Andremo immediatamente a segnalare al nuovo gestore di provvedere alla sostituzione di quella lampada in attesa poi di quello che sarà il cambio definitivo di tutta l'illuminazione anche di quell'area LED. Quindi provvediamo immediatamente a raccogliere la segnalazione di Rete Veneta e dei cittadini, sostituiremo quella lampada intanto e poi in attesa del rest-line definitivo che sarà la cosa più bella. I tempi? Tempo di segnalare con l'applicazione come può fare qualsiasi cittadino al nostro nuovo gestore e entro 24 ore, massimo 48, verrà sistemato. Avete sentito? Il tempo di segnalare con l'applicazione dedicata e entro un paio di giorni al massimo verrà sistemato il lampione. Molto bene, allora non perdiamo tempo. Una semplicissima app. E' stata fatta. Provederò anche a sollecitarla direttamente questa mattina e chiedere l'intervento immediato. Bene, noi ringraziamo l'assessore per la sua risposta tempestiva. Ovviamente però attendiamo di vedere risolto il problema. Quindi la questione non finisce qui ma continua. Manca poco ormai all'open day di Palazzo Tiene, il nuovo Tempio della Cultura Vicentina che diventa anche occasione per parlare di cultura e di grandi artisti. Palazzo Tiene, il nuovo Tempio della Cultura Vicentina, pochi giorni dalla sua apertura, è già una fabbrica di occasioni, di opportunità per parlare di opere, per promuovere i grandi artisti. Uno di questi è sicuramente Nereo Quagliato, scomparso il 18 ottobre del 2012. Figlio illustre della città del Palladio, ha saputo conquistare un posto di rilievo tra i grandi scultori internazionali. Vissuto in Austria, in Germania e negli Stati Uniti, sono tantissime le opere vitali, palpitanti, che ha saputo creare e che oggi si trovano nelle chiese, nelle case, in Italia e nel Vicentino. Come l'altalena di Piazza delle Poste a Vicenza, o la statua dedicata a Neripozza, in Piazzetta San Paolo. L'amore per la sua città era forte. La leggenda dice che avrebbe voluto donare una collezione di sculture a Vicenza, ma il comune, guidato da Achille Variati, avrebbe rifiutato. Per motivi di spazio il museo non poteva accoglierne più di otto. Le altre, Quagliato allora, le regalò alla Banca Popolare di Vicenza. erano le più belle e trovarono posto proprio a Palazzo Tiene, sede storica di BPV. Poi la storia è nota e anche le sculture di Quagliato sono finite nel gorgo del crack. Insomma, c'era una sala dedicata a Quagliato, nelle gallerie di Palazzo Tiene, ma oggi è vuota. La domanda che poniamo è l'acquisto da parte del comune di Palazzo Tiene e l'open day di sabato 25 settembre non possono diventare l'occasione per chiudere i conti col passato e ricomporre la collezione di Quagliato riportandola nel nuovo museo di Vicenza? In fondo le sculture mancanti sappiamo che sono state acquistate da un vicentino. Perché non trovare un accordo per esporle a Palazzo Tiene? Sì, noi stiamo interloquendo con questo vicentino che è un amico di Quagliato che ha acquistato queste statue. Non sappiamo ancora quale sarà il risultato di questi colloqui, dovremmo aspettare ancora qualche giorno per capire se c'è la possibilità di restituire alla città queste opere. Sarebbe importante averle perché c'è una sala proprio riservata acquagliata all'interno del museo e quindi è giusto che quella sala venga riempita con 20 statue. Questo era il numero delle statue che sono state vendute. Unitamente alle nostre che ce ne sono altre 5-6 può diventare un angolo importante. Il ricordo di un grande artista vicentino in termini di scultura. Bene, il sindaco si è attivato. Attendiamo un lieto annuncio manca una manciata di ora all'inaugurazione di Palazzo Tiene come nuovo museo di Vicenza quindi bisogna fare in fretta ancora poco e sapremo. Torna Ottobre Rosa il mese della prevenzione per la salute della donna. In questa edizione sono coinvolti i 11 comuni del territorio dell'Ursotto Berica. Sentiamo. Appuntamento con Ottobre Rosa il mese della prevenzione a livello nazionale per la salute della donna e che nel Vicentino si declina in una molteplicità di incontri, dibattiti, spettacoli, marce, conferenze sull'alimentazione piuttosto che in open day di incontro con il senologo piuttosto che con l'Ossopata. Coinvolti ben 11 comuni sul territorio dell'Ursotto Berica promosso sul territorio dal comitato Andos Ovest Vicentino in collaborazione con amici del quinto piano dell'ospedale San Burtolo di Vicenza. Abbiamo visto un coinvolgimento così forte e così immediato delle amministrazioni comunali ma anche dei medici, delle associazioni sportive, delle associazioni di volontariato che veramente ci ha entusiasmato evidentemente tanta la voglia di ripartire. Fondamentale la prevenzione e lo screening. Solo nel centro di Montecchio Maggiore nel 2020 sono state operate di tumore al seno 721 pazienti ma molte donne ultimamente non hanno effettuato lo screening. Come Ulsotto Berica non è mai stato sospeso neanche lo screening. Chiaramente ha avuto un accesso inferiore proprio legato al fatto di paure, timori di accedere ad ambienti promiscui nel periodo del lockdown. Screening invece è fondamentale in tema di prevenzione. È fondamentale oggi perché nel campo senologico se noi operiamo un cancro della mammella in una fase iniziale questa persona vivrà quindi e guarirà. Ricordati di te è l'invito lanciato a tutte le donne. Un corretto stile di vita un'alimentazione sana adeguata il movimento l'aderire alle campagne di screening sono tutte attività che ci salvano la vita. Vogliatevi bene perché possiamo voler bene agli altri solo se prima vogliamo bene a noi stesse. Vicenza ricorda il suo grande campione Paolo Rossi nel giorno del suo compleanno. C'era una volta lui il campione l'uomo pablito indimenticato indimenticabile numero 9 che ha legato la sua storia al calcio mondiale nato a Prato un 23 settembre come oggi era il 1956 in questo 2021 avrebbe compiuto 65 anni davanti allo Stadio Menti di Vicenza un gruppo di tifosi di amici di ex compagni di squadra lo ricorda con un rinfresco come se fosse qui anche lui in questo tempio dello sport che è intriso delle gesta di pablito Paolo Rossi sarebbe stato contento anzi lo è di sicuro che ci guarda dall'alto penso che Paolo dall'alto ci sta guardando e conoscendo il carattere sarà lì che ride come un pazzo a vedere questa manifestazione questo festeggiamento per questa persona che è indimenticabile io sicuramente più tardi manderò un messaggio comunque al suo cellulare poi ho ancora il numero di telefono e voglio ricordarlo ancora come ci si ricordava sempre durante il suo anniversario Paolo è qui ne sono tutti convinti e non è uno stratagemma per ingannare la commozione no qui pablito c'è davvero tutto profuma delle sue gesta del suo modo di vivere di stare al mondo l'amore per lui è genuino sincero schietto senza tanti convenevoli lo dimostrano gli 8000 iscritti al gruppo gli amici di Paolo Rossi e il promotore oggi annuncia grandi novità e a breve ci sarà una grande iniziativa di street art che avrà risonanza mondiale e che coinvolgerà Paolo e un luogo di vistenza non siamo ancora pronti quando siamo pronti lo faremo sapere perché sarà una grande novità una sorpresa per il prossimo futuro una certezza invece tra pochi giorni quando questo spiazzo davanti allo Stadio Menti verrà intitolato a lui diventerà Largo Paolo Rossi ci sarà questa intitolazione e siamo tanto contenti e oggi brindiamo al papà tutti insieme grazie dopo un anno e mezzo di pandemia torna alla festa di San Zeno in Fiore ad Arzignano nell'antica chiesa che è il cuore della frazione è tornata al suo posto la croce del campanile che era stata spezzata e gettata a terra dal maltempo di un anno fa è la croce ritorta riposizionata sopra il campanile della chiesa di San Zeno dopo essere stata abbattuta dalla tempesta del 29 agosto 2020 il simbolo della voglia di tornare a sorridere che caratterizzerà i giorni di festa della sagra di San Zeno in Fiore si parte il 24 settembre per chiudere il 10 ottobre ritorna la tradizionale sagra di San Zeno in Fiore è un momento importante per la frazione per la città per tutti i cittadini è un momento per ritrovarsi per stare insieme dopo un anno e mezzo di pandemia e quindi di tante restrizioni ma per San Zeno è un momento importante anche perché in quella piazza ci si ritrova dopo appunto che era stata fortemente colpita in particolare il campanile di San Zeno dal maltempo del 29 agosto tre fine settimana per ritrovarsi ospiti della frazione più popolosa del comune di Arzignano tra dolci colline il ricavato della sagra patronale andrà interamente alla parrocchia diamo ora uno sguardo alla nostra programmazione alle 20 torna a sport in casa condotto da Alex Iuliano puntata dedicata al campionato d'eccellenza con uno speciale sul Giorgione ospite l'allenatore Stefano Esposito alle 21 e 15 da non perdere Focus ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli Pietro Beann Paolo Benveniù Fabrizio Borone Marco Brigo Isabella Dotto Stefano Marrone Morena Martini e Giulia Vazzoler 21 e 15 dunque Focus da Vicenza è tutto grazie per l'attenzione a tutti voi una buona serata arrivederci